Si definisce pediatrica la malattia di antitano quando colpisce prima dei 18 anni, in una forma purtroppo molto grave e rappresenta il 10% circa o meno di casi totali di malattia di antitano. È importante non trascurare questo aspetto perché rappresenta, dal mio punto di vista, la paura più grande che una famiglia ha rispetto a questa malattia. Tutti hanno il terrore di poter aver trasmesso una mutazione genetica che colpisce un bambino o un adolescente. Spazio Huntington è un modo che ci siamo dati per incontrare famiglie con bambini a rischio di malattia di antitano. È un sistema che mette a proprio agio i bambini che vengono osservati da noi in un'area non tecnica mentre giocano. Di non temere di farci incontrare bambini a rischio di malattia perché riuscire ad intervenire precocemente in futuro in questa malattia sarà essenziale per poter impedire che la malattia si sviluppi, insorga e progredisca severamente. Grazie per la visione!